Fred Film Radio una persona in vita ed estremamente famosa che potrebbe, diciamo, secondo tanti rappresentarsi da sola e invece lei ha scelto di farsi raccontare da me e niente, non so, hai delle domande? Sì, volevo sapere innanzitutto come vi siete incontrati, come c'è stato questo link Chiara Ferragni di Samoruso tu vivi nel nostro mondo quello dei registi della cinefilia la cinematografia, voglio dire sono due mondi che non sempre spesso si incontrano Assolutamente, soprattutto io e il mondo della moda proprio non ci siamo mai incontrati questo fantastico completo che indosso oggi di Alberta Ferretti è stata tutta un'opera loro, di Chiara, non mia quindi sì, è vero effettivamente ci ha messo in contatto un produttore che è Francesco Malzideril della Memo Film che produce anche i film di Luca Guadagnino che mi conosceva proprio perché aveva visto Fuoristrada aveva visto Strane Straniere e quindi ci conoscevamo mi ha chiamato loro stavano facendo dei colloqui con dei registi quindi Chiara aveva già incontrato delle registe e dei registi e quando ha incontrato me ha capito subito che insieme avremmo potuto fare una bella cosa che ci somigliavamo molto c'è stata immediatamente una comunione di intenti sia per quanto riguardava i contenuti del film e sia proprio anche un po' a livello empatico e istintivo se fai un documentario su una persona se fai un ritratto di quella persona è inevitabile avere un rapporto molto intimo perché altrimenti quella persona non ti regala niente della sua vita e Chiara devo dire che mi ha concesso molta fiducia Qual è stata la direttiva per te? Indagare un fenomeno conoscere una donna il film è diviso in parti e tu attraverso queste parti percorri un po' la persona e il fenomeno Chiara Ferrani Sì, diciamo che Chiara appunto raccontare la sua storia mi interessava moltissimo innanzitutto perché come donna è riuscita ad ottenere un successo incredibile inoltre come donna e come lavoratrice poi avendo dei traguardi così grandi come per esempio diventare un caso di Harvard oppure essere la prima influencer di moda al mondo insomma sono traguardi altissimi che lei ha raggiunto molto giovane e nonostante questo è sempre stato un personaggio molto ambiguo, molto controverso, molto criticato secondo me anche perché c'è un po' un terrore diffuso del nuovo mondo dei social e questo in qualche modo è quello che ho cercato di indagare perciò il racconto di una donna coraggiosa sulla quale c'erano dei pregiudizi era una sfida che mi apparteneva tanto quanto nei miei film precedenti cioè fuori strada è la storia di un meccanico su cui c'erano dei pregiudizi perché è diventato transessuale strane straniere è la storia di donne che dà straniere quindi partendo da una condizione di svantaggio in Italia invece hanno avuto successo Chiara Ferragni è una ragazza di Cremona che ha creduto in un sogno e contro tutto e tutti è riuscita a realizzarlo quindi mi apparteneva molto questa storia e mi incuriosiva moltissimo entrare di più nelle logiche di internet di come funzionano le piattaforme dei social e a questo proposito abbiamo intervistato anche giornalisti professori universitari americani, scrittori abbiamo cercato di farci dare dei pareri su come il nostro mondo sta cambiando su perché questo mondo sta cambiando come la rivoluzione tecnologica possa modificare anche le aree di influenza dell'economia, del business e della cultura quindi questi erano i due aspetti su cui mi sono focalizzata e poi c'era naturalmente anche quello di raccontare Chiara come persona anziché come personaggio quindi entrare un pochino di più nella sua spara intima e privata lei devo dire si è concessa da questo punto di vista ci ha raccontato anche tradimenti, fallimenti della sua vita personale di questo le sono grata perché altrimenti il film non sarebbe stato un posted ma soprattutto sono grata alla mamma di Chiara che ci ha dato tantissimi filmati di repertorio quella è una delle parti più interessanti infatti quella è stata la mia come dire, la cosa veramente più interessante che ho scoperto che veramente non immaginavo potesse accadere e cioè che questo talento naturale per comunicare Chiara lo possedesse fin da bambina voi l'avete visto, c'è a un certo punto nel film questa ripresa in cui lei a New York è a otto anni si volta verso la camera che la sta riprendendo in quel caso della mamma e dice ragazzi dovete venire a New York perché è bellissima e con chi stesse comunicando con la bambina di otto anni lo sa solo lei quindi in qualche modo lei conteneva dentro di sé un bisogno che era anche però come dire una sorta di lungimiranza antelitteram perché non esisteva internet non esistevano i social e questo sicuramente è stato un suo grande merito di contenere in sé Marchetti nel film dà una definizione molto giusta secondo me dice Chiara possiede l'esperanto della contemporaneità cioè questa nuova lingua che sono i social network che nessuno di noi riesce veramente bene ad afferrare lei la possiede in maniera naturale la lingua naturale dei social network e la possiede perché probabilmente fin da quando era piccola era abituata a comunicare con qualcuno che apparentemente era solo la mamma che la riprendeva ma in realtà poi è un pubblico che si è allargato fino a raggiungere 17 milioni Elisa grazie mille in bocca al lupo per Chiara Ferrani a un posto qui nella sezione sconfini alla 76ma mostra d'arte cinematografica di Venezia io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred da Festival Insider grazie